Sono Alessandra Vancini, pediatra neonatologa dell'ospedale Maggiore di Bologna e ho questa domanda per te. Tuo figlio cresce regolarmente? Perché la crescita è un fondamentale indicatore della salute del bambino. Scoprilo a settembre con i webinar della campagna di sensibilizzazione dell'associazione Afadoc. Ti aspetto mercoledì 16 settembre alle 18 in punto per parlare dei segnali d'allarme del neonato e rispondere alle tue domande. Iscriviti subito al webinar su www.afadoc.it www.afadoc.it